...nasce, diciamo, in realtà su un polverone che non fosse alzato sulla scuola di Saffocco. Si è detto un po' di tutto, per cui, diciamo, avevo un dubbio e quindi approfitto, insomma, per chiedere al Sindaco il chiarimento. In realtà, quello che volevo chiedere al Sindaco è se per lo stabile si intende proporre una variante urbanistica oppure si vuole optare per un uso temporaneo in deroga al PRG ai sensi dell'articolo 23.4 del testo unico dell'edilizia. Grazie.